Lentissimo spazio il numero 9, fa correre il compagno sulla sinistra che salta secco un avversario, poi ancora Marianne col tocco sotto, poker del numero 9, 5 a 2 Steaua, è sempre lui a farsi trovare pronto questa volta sulla ribattuta di Giordano Podeschi, 5 a 2 Steaua che mette in cassaforte i primi tre punti della stagione.